E si sono conclusi nella serata di ieri gli eventi e le celebrazioni per la festa patronale di San Lazzaro di Betania, Santo Patrono di Covo. I quattro giorni di celebrazioni dal 14 al 17 dicembre hanno permesso di ridare il giusto valore alla festa patronale. Anche il Comune della Bassa è stato coinvolto nel progetto Coglia che ha permesso di riscoprire la figura di Bartolomeo con Leoni insieme a quella di San Lazzaro. A culmine delle celebrazioni il concerto di musica sacra quattrocentesca nella chiesa parrocchiale che ha visto come protagonisti quattro giovani arrivati da Assisi. A chiudere gli eventi della festa patronale la consegna delle benemerenze di San Lazzaro consegnata all'imprenditore e benefattore Mario Cucchi, al gruppo teatrale Covese 2.0 e al nonno vigile volontario Francesco Gatti.